cosa mi sto cucinando nel pentolino col baby oggi allora ho pulito dei carciofini li ho messi in questo pentolino con un goccino d'acqua mezzo bicchiere d'acqua un po di sale e li ho cotti a vapore ora che sono ben cotti come potete vedere vado a mettere un goccino d'olio e delle fettine di provola così la provola si va a sciogliere e questi carciofini diventano filanti e più saporiti se uno li vuole fare completamente dietetici naturalmente li lascia senza niente solo un goccino d'olio però con la provola vengono ancora più saporiti vado a controllare che sono passati intorno a due minuti ok la provola si è ben sciolta e ora posso spegnere lascio un paio di minuti coperto ok porto sul tavolo e vado ad appoggiarlo sull'umino il pentolino grazie grazie